ben trovati in studio gentili telespettatori di cilento channel quest'oggi ospite mio personale menotti lerro eccolo qui a fianco a me ben trovato grazie altrettanto bene con menotti lerro che è un poeta nazionale molto rinomato quest'oggi noi vogliamo informare tutti voi telespettatori di cilento channel di una assoluta novità la costituzione quindi l'inaurazione ufficiale del centro contemporaneo delle arti tutto questo avverrà il giorno 12 di gennaio a ballo della lucania e menotti lerro è qui per raccontarci questa avventura in veste di direttore di questo centro giusto ho detto bene menotti sì hai detto benissimo il 12 gennaio parte questa entusiasmante avventura centro contemporaneo delle arti di vallo della lucania che è formato da un importante organigramma a partire dal presidente onorario che è il poeta franco loi uno dei poeti più importanti della contemporaneità nazionali e l'abbiamo scelto anche per il valore della sua poesia per quanto riguarda l'esprimersi in dialetto perché lui si esprime in dialetto milanese e quindi questo ci porta un po nel nostro cilento dove l'espressione dialettale ancora molto forte molto sentita inoltre abbiamo come presidente francesco d'episcopo dell'università federico secondo di napoli e l'abbiamo scelto proprio per unire i nostri due comitati che sono il comitato scientifico composto da tutti i docenti universitari e il comitato territoriale che è composto da docenti ed esperti del territorio cilentano francesco d'episcopo mi sembrava esprimere cogliere perfettamente questa sintesi tra i due comitati visto il suo impegno sia a livello nazionale quindi a livello scientifico come docente ma anche a livello territoriale perché lui si è sempre occupato di sud italia e quindi va ad unire un po il tutto beh visto che siamo partiti già descrivendo l'organigramma del centro ti chiedo ci sono altre personalità all'interno e poi magari ti chiederò da dove è nata l'idea e soprattutto sulle attività che farete quindi partiamo dalle personalità moltissime personalità per quanto riguarda ad esempio il comitato scientifico letterario filosofico abbiamo il professore remo bodei uno dei più eminenti filosofi nazionali lo stesso per umberto curi abbiamo i poeti roberto carifi e giampiero neri abbiamo i due poeti che fanno parte del comitato onorario e che sono milo de angelis e davide rondoni che abbiamo premiato come premio cilento poesia tutti i poeti premiati come cilento poesia diventano membri onorari del centro e quindi ad esempio un comitato scientifico filosofico letterario molto forte lo stesso dicasi per quanto riguarda le altre sezioni e che sono ad esempio la sezione del dell'arte design new media abbiamo marco baudinelli dell'accademia di belle arti di carrara angelo cortesi gino finizio omar galliani e tanti altri artisti molto molto noti a livello anche internazionale la sezione della musica dello spettacolo abbiamo elvio annese regista e che insegna l'accademia di belle arti di brera roberto favaro altrettanto dell'accademia di brera il notissimo bernardo lanzetti e giangarlo turaccio del conservatorio di salerno luigi mogroveio il compositore domenico giordano altrettanto maria rita parsi e che guarderà un poco questo rapporto tra psicologia e letteratura roberto rosso dell'accademia di brera vincenzo missanelli di brera fernando la greca dell'università di salerno insomma e l'utriato gruppo di personalità davvero eccellenti ti faccio i complimenti grazie grazie valo della lucania insomma avrà un nucleo dell'arte importante per quanto riguarda la vetrina nazionale e internazionale perché con la presenza di queste persone devo dire la verità farete probabilmente tantissime attività di spessore no se l'idea è quella farne alcune non so quante se tante poche non è importante però sempre di di spessore perché ci interessa faccio farci portavoce di una di un pensiero culturale condiviso e che sia anche espressione di un paese civile democratico e voglioso di emergere in tutta la sua bellezza e forza intellettiva ecco questo è un po il l'idea il proposito del del centro c'è anche poi un comitato territoriale molto forte di cui fai parte anche tu tra l'altro non lo sapevo lo sapevo di quale resa me lo dici in trasmissione trasmissione tu e raffaella chiaramente perché è un comitato dove tutti gli esperti del nostro territorio alcuni insomma molti esperti nostro territorio cercheranno di unirsi al comitato scientifico per insieme creare delle attività artistiche di elevato spessore potrei citare ad esempio il professore gennaro malzone tu conosci bene lo storico di castellabate esatto il preside del liceo parmenide francesco massanova pure conosciamo grande compositore nonché dirigente di spessore esatto svaldo marrocco santagliello vilma leone antonino nese gerardo russo amedeo la greca e insomma per citarne alcuni abbiamo tra l'altro la nostra direttrice vice direttrice che di vallo che è la professoressa giusi rinaldi che salutiamo ciao giusi perché anche nostra nica diciamolo è certo certo ma ecco la cosa bella che sono tutti amici poi questa è la cosa fondamentale siamo un gruppo di amici gente che ci stimiamo ci vogliamo bene nell'arte che crede ama l'arte la cultura e quindi tutto parte da questo fondamentalmente il nostro vice presidente è antonello pelliccia e dell'accademia di belle arti di brera abbiamo ancora mauro afro borella del politecnico di milano e dell'accademia di brera voglio ancora citare francesco castiello il nostro senatore che con l'associazione grande lucania ci sostiene insieme al presidente della banca del cilento di vallo della lucania che è silvano lucibello e il direttore ciro solimeno per dire che a questi grandi artisti vengono affiancati anche dirigenti di alto spessore che hanno a cuore il nostro territorio e che insieme cercheremo tutti di vedere come poter portare avanti un progetto solido robusto serio onesto bello un progetto che mi dicevi nato in sinergia con il dottor pelliccia giusto all'accademia di brera se tu insegni o sbaglio dove quest'anno dove quest'anno anche l'anno scorso ma quest'anno ho portato avanti un workshop di venti ore sulle interrelazioni tra letteratura e arti visive e quindi insomma diciamo che collaboro con l'accademia senti tante le attività che svolgerete insomma all'interno del centro a partire dalla letteratura per terminare col cinema insomma al centro il design signo media fotografia teatro la poesia l'autobiografia il romanzo insomma porteremo avanti vari generi generi ormai consolidati nella storia e generi un poco più moderni che stanno affacciandosi o che si sono affacciati negli ultimi decenni sulla contemporaneità come ad esempio il genere autobiografico che è un genere relativamente nuovo ma che si è andato man mano proponendo e consolidando come genere a sé stante un centro che si apre anche al territorio e soprattutto ai giovani o sbaglio sì ecco abbiamo un comitato direttivo un comitato scientifico un comitato territoriale e poi abbiamo i collaboratori che sono dei giovani che amano il nostro territorio la cultura del nostro territorio ma anche la cultura nazionale perché noi abbiamo sempre questo doppio modo di guardare alla all'arte e quindi per il momento sono una decina di ragazzi che di cui mi fido molto però il centro è felice di allargarsi quindi tutti coloro che voglio partecipare che amano l'arte e che vogliono sia imparare sia insegnarci delle cose con la loro preziosa collaborazione sono invitati a contattarci e saremo lieti di accoglierli sei sempre in grado di stupirmi perché con questo verbo insegnarci davvero si capisce ecco la tua come dire propensione verso il prossimo no e quindi questo davvero secondo me tipo come direttore del centro ti porterà molta fortuna perché secondo me questo è lo spirito giusto nel fare le cose detto questo io volevo ricordare ai nostri telespettatori che il 12 di gennaio uscirà anche o meglio lo presenteremo al pubblico l'ultimo lavoro di menotti lerro che è una raccolta di poesie fresco di stampa facciamo un po anche di ironia no perché i nostri telespettatori poi devono conoscerci anche come persone semplici no non solo attraverso quelle persone che dietro a una telecamera davanti a una telecamera insomma no fanno informazione e cultura ma siamo anche delle persone soprattutto umili questo sempre lo dobbiamo dire e quindi io direi di leggere qualche passo di qualche poesia che così al volo ecco sto sfogliando che dire posso un attimino prendere pagina 26 e però mi aspetto il voto da te perché tu sei sei un poeta spesso reciti le poesie quindi non me ne vogliate per quanto riguarda qualche errore perché la distanza purtroppo l'età quindi leggere senza occhiali allora un attimo di concentrazione torna ti prego nelle notti e parlami dell'ombra che abita il pensiero portami rugiada di giglio canto che ha già nella parola la sua musica non dividere due corpi che si uniscono mi dirai sono ancora morti i signori del duomo che spiavano dal cielo i nostri sogni di terrore sono morti i piccioni della piazza all'indifferenza dei bambini allora un voto alto dai no dai lo so che adesso sei sei buono a proposito volevo salutare in regia jerry giaccio che è il fratello di andrè che è influenzato e quindi non può seguire noi oggi ma allo stesso modo jerry pure in gamba lo salutiamo quindi sono bravissimi sempre dalla regia perché il loro contributo poi naturalmente indispensabile affinché noi possiamo andare in onda certo se dio volevo sentire anche te naturalmente leggere un pezzettino magari quello precedente perché vedo che parla d'amore i versi che precedono quelli che tu hai letto ahimè se l'avessi visto prima l'avrei letto io però te lo lascio a te il pezzettino sull'amore bene l'amore che ripulimmo dalle ossa a forza ha lasciato lì la sua impronta come un livido che non scompare nutrito dall'assenza ma si espande in immagini di noi lame distorte di luce e di dolore l'amore che sfiorava le guance e poi rideva senza temere di imbruttirsi di se stesso certo aspettando il volo per la terra del poeta di cui rubamo lingue segreti per non essere ancora nella nostra patria stranieri bravo come sempre riesci ad emozionare voglio ricordare i nostri telespettatori la tua piccola creatura la nostra piccola creatura che il premio cilento poesia no noi nell'occasione della prima edizione con menotti ci siamo conosciuti e da subito c'è stata una sinergia il premio cilento poesia è alla per quest'anno è alla sua terza edizione e quindi volevo solo ricordare i nostri telespettatori che sarà realizzata ad agosto più o meno giusto ci devo informare di alcune novità allora diamo queste informazioni al di là del centro contemporaneo delle arti e poi poi il centro contemporaneo delle arti nasce anche dal premio cilento poesia insomma tutto nasce da lì dalla risposta magnificente del territorio della gente dell'attenzione che c'è stata anche da parte dei grandi poeti nazionali e quindi poi dopo abbiamo man mano pensato anche ad altro quest'anno si terrà a vallo della lucania la nuova edizione forse non ad agosto ma a luglio sarà questo cambiamento però ci sarà una sorpresa nel senso che poiché avrei voluto dare il premio cilento poesia a francoloi ed anche a roberto carifi che fanno parte del nostro organigramma sono due poeti che io amo molto stimatissimi insomma e che meritano indubbiamente il premio cilento poesia però hanno questo franco loio ormai è un po in là con gli anni e quindi non se la sentiva di arrivare fino a da noi a luglio agosto insomma purtroppo roberto dopo che ha avuto un grave problema di salute non riesce a spostarsi e quindi per entrambi insieme ai vertici della accademia di brera abbiamo deciso di conferire in un'edizione speciale il premio cilento poesia il 22 febbraio proprio a francoloi e a roberto carifi una delegazione del centro contemporaneo delle arti si sposterà si sposterà e si sposterà lì chiaramente ci saremo anche noi magari con le nostre telecamere per aumentare questo evento fantastico e poi chiaramente faremo una nuova edizione a luglio agosto che a questo punto diventa la quarta edizione quindi faremo questa terza edizione due in uno due in uno 2019 già porta bene il 22 febbraio che tra l'altro il giorno del mio compleanno ma per caso è capitata quella data e quindi saremo tutti lì per festeggiare loio e carifi perfetto allora per terminare io ricordo l'appuntamento per il 12 di gennaio a vallo della lucania precisamente dove ea che ora dobbiamo presso il palazzo della cultura alle 18 bene e sono tutti invitati noi i nostri telespettatori sì certo sono tutti invitati e già dal primo giorno sono invitati con uno spirito propositivo con uno spirito di collaborazione con idee perché io amerei sentire proposte e cercare di realizzarle insieme cioè fare del cilento realmente una fucina di idee e di iniziative per portare il cilento ai vertici della cultura nazionale già lo è per certi aspetti e ma sono certo che possiamo realmente cellere ancor di più e moltissimo in futuro bene io ti ringrazio per essere stato qui con noi grazie a voi sempre cordialissimi e ci vedremo prestissimo sempre con menotti nel l'erro per raccontarvi le attività del centro contemporaneo delle arti ma anche quelle sue personali che a mio modo di vedere sono davvero entusiasticamente grandi eccellenti grazie 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 a te grazie a te